O si cambia o si muore. Bellissima questa iniziativa dell'attacco per modificare, inventare un nuovo modo di essere quotidiano, ma anche soggetto di una comunità che si evolve e che ha una grande voglia di miglioramento e di affermazione. Foggia stasera ospita questo importantissimo evento, questo galà dell'innovazione nella comunicazione giornalistica, del quale ovviamente non posso che congratularmi con tutta la redazione dell'attacco, in particolare con Piero Pacello che guida questa squadra formidabile. Purtroppo stasera non sono in grado di raggiungere Foggia dai luoghi dove, voi sapete, si sta concludendo la campagna elettorale. Mi dispiace molto, ma sono certo che il successo coronerà questa serata bellissima e che l'attacco ancora una volta dimostrerà il suo ruolo nella società pugliese e in particolare nel riscatto di una città a me carissima che è la città di Foggia.